Bentornati! Bentornati! Oggi vi regaliamo tutto! Esatto! Offertissima del giorno! Sacco a pelo, casa rifugio, troppo caldo, troppo freddo! Questa è l'innovazione, pura lana! Basta! Dormire stanchi, dormire sudati, dormiamo comodi, rilassati nei nostri nuovi sacchi a pelo montagna, freschissimi, innovativi, esagerati! Guardate che stile, che colori! Se avrete freddo lo potrete chiudere con l'innovativa Easy Zip! Cosa cambia? Avete un sacco a pelo nuovo, bello, morbido, caldo, colorato! Solo per le prime 30 iscrizioni avrete in omaggio la borraccia Paolino! 5 litri di puro gradimento, di freschezza, basta gite lunghe, basta fermarsi ogni 10 metri, più acqua, più acqua per la gita e quindi cosa aspettate? Iscrivetevi! Ciao!